Parliamo con Diego Daldosso, insomma, a volerla buttare sul ridere si può dire che il pergo taffaziano oggi si è fatto male da solo? Sì, diciamo che la cosa più difficile l'avevamo fatta, sembrava l'avessimo indirizzata bene, poi purtroppo non siamo stati bravi a chiuderla e a portarla a casa, ormai sembrava di esserci vicini. Tanti errori in attacco? Ma sì, errori in attacco, dietro, in mezzo, quando non si vince vuol dire che si è sbagliato tutti, come quando si vince vuol dire che si è fatto le cose bene. Dobbiamo essere più bravi, sicuramente, se vogliamo fare quel passo che ci porta ad arrivare ai playoff dobbiamo essere più bravi in tante situazioni e ricominciamo a lavorare per questo. Cos'è mancato soprattutto oggi? Le tante occasioni sbagliate, forse anche un po' psicologicamente dopo il vantaggio è fatta, vi siete forse tirati indietro un po' troppo o no? Sicuramente dopo il vantaggio si era messa bene, loro in dieci erano in difficoltà, probabilmente fossimo stati bravi a chiuderla l'avremmo portata a casa perché ormai mancava poco, però purtroppo guardare indietro non serve mai, non ci porta niente. Cerchiamo di ragionare ovviamente sugli errori fatti e lavorare per non commetterne più e adesso testa a mercoledì che arriva presto. Tu come stai? Bene, bene dai, le partite mi serviranno sicuramente per prendere ritmo perché tanto tempo star fuori non è facile, però c'è poco tempo quindi bisogna ottimizzare subito e farsi trovare subito pronti perché da mercoledì si riparte.